con amici sto percorrendo il percorso della prima edizione della gravel marathon valle espluga un percorso molto suggestivo i chilometri sono 111 pensate con un dislivello di 3500 metri siamo a Alpe Motta frazione di Campodolcino e da poco abbiamo fatto il tratto di sterrato più impegnativo quello di Fra Ciscio vi aspetto numerosi domenica 25 settembre in valle espluga